Estate è diversa, più complicata rispetto alla scorsa dal punto di vista dei contagi. La sottovariante Omicron 5 emette paura perché è molto contagiosa, anche se i casi sono diminuiti di circa il meno 10%. Nelle ultime 24 ore però è aumentato il numero dei decessi, 5 e nuovi positivi in Abruzzo sono stati più di 2.600. I ricoveri sono lieve calo, ma in area non critica perché nelle terapie intensive sono aumentati. Pescara, Teramell'Aquila sono le città più colpite. L'Abruzzo, insomma, in questo senso resta maglia nera con l'incidenza più alta rispetto alle altre regioni. A livello provinciale si viaggia sui 500 positivi al giorno. Diciamo che questa ondata, chiamiamola estiva, sembrerebbe aver raggiunto il picco, nel senso che ormai stiamo su un plateau di circa 500 in contagi al giorno, che vengono documentati da tamponi fatti ufficialmente. Poi dobbiamo tener conto di tutti quei tamponi casalinghi. Quindi non registrati e di persone che non denugiano la loro positività. Per cui sicuramente staremo in una situazione che magari sarà il doppio. Però detto questo, sembrerebbe che abbiamo raggiunto l'acme. Quindi speriamo che nel giro dei prossimi 10-15 giorni la situazione tenda a scendere e quindi la situazione andrà a rinormalizzarsi. Se questa è la situazione odierna, le previsioni per l'autunno non sembrano buone, ma bisognerà vedere e valutare mese per mese. Poi cosa accadrà in autunno sarà un punto interrogativo. Ecco, l'estate scorsa si stava meglio. Colpa, tra virgolette, di queste varianti, sotto varianti Omicron 5, che sono molto più contagiose? Sicuramente la variante attuale, quella predominante, è sicuramente molto contagiosa. Per fortuna alle persone vaccinate sembrerebbe che faccio poco danno, i sintomi sono abbastanza lievi. Però c'è da dire e mettere sul piatto una cosa importante. L'anno scorso avevamo le mascherine, utilizzavamo le mascherine. Adesso sono circa due mesi, è grosso modo che stiamo senza mascherine. Sono pochissime quelle che mantengono l'attenzione e le precauzioni. E questo chiaramente con gli assembramenti, i concerti e quant'altro, è chiaro che crea una situazione di contagio che porta sui numeri.